sicuramente dispiace molto per questo verdetto purtroppo il campo ha parlato chiaro non siamo stati mai in grado di fornire delle prestazioni all'altezza quindi il decreto ormai è scritto noi dobbiamo cercare di rispettare il campionato andare in campo e cercare di fornire delle prestazioni all'altezza ne abbiamo subito di fronte una delle squadre candidate al salto di categoria deve essere una sfida stimolante giocare contro i migliori e provare a essere all'altezza sicuramente Cantù è una squadra molto fisica in tutti i ruoli una squadra che può farci male dentro all'area noi lo sappiamo vogliamo provare a negargli qualche situazione a mettere qualche granello nel loro ingranaggio sicuramente useremo queste quattro partite per provare a magari far giocare qualche minuto in più ai nostri giovani e cercare di finire al meglio questa stagione